musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono il chiusius e oggi ripetivo con megamaster force 2.0 crex ninja ok l'ultima volta abbiamo siamo arrivati praticamente ad avere tutte le mega se non sbaglio fino a quella mancano righe esatto il mio incubo peggio anche se in realtà la forma ex me l'avevo già fatta vedere ma ehi il mondo è infame non mi ha salvato i dati ma famagno ah tra parentesi devo arrivare fino al eco quindi se ah tra parentesi ragazzi volevo dirvi che vabbè adesso vado a prendermi un altro paio di mantelli perchè potrebbero servirmi per fare su e giù dalla dimensione strana ma volevo anche dirvi che in questi giorni non so se questa settimana la prossima lo dovrei aver già dato nel vlog in realtà che avevo fatto l'ho presentato anche il contest che sta per uscire la la prima game theory ecco che è la mia nuova serie che tratterà teoria dei videogiochi ok la prima teoria sarà sul continente di mu ragazzi non avete idea del tempo che ci sto impiegando dove sto andando a parentesi nel parlare del tempo che sto impiegando per montare il video sono 11 minuti di video ma non finisco che di montarlo ragazzi veramente veramente sono tante immagini ci sono dedicato tanto tempo quindi eh spero che mi piaccia e se sarà così continuerò indubbiamente con la serie lì mi chiedo ovviamente di proporre sempre nuovi argomenti e in teoria ce la dovrebbe doppare indipendentemente dal fatto che abbiamo non abbiamo trovacarte trovacarte serve praticamente per ottenere la base con la IEX quando è però nella forma special iii carine si lo so ho aspettato perché così almeno i soldati vanno via si prenderà quei 40 tanto danni in meno perlomeno e ragazzi fare tutti quei danni in meno schianta di più devo vedere come ok questo risponde la via si vabbè però si vabbè però nooo porca l'amicetta guardate guardate come tenta di ci ho fatta ci ho fatta mamma mia ok ok e questi te li becchi tutti spero che i minion non continuano con un bersaglio ok non contano con un bersaglio ok non avrò fatto un tempo eccelso ma generale auriga io ho salvato prima di vivere spero di sì per resettare perché voglio ottenere quella dannantissima IEX mi viene male mi viene male mi viene male a far fuori auriga così mi viene male come non è a far fuori auriga a far fuori auriga come ti ho detto devi morire si genera auriga IEX muori infame che non sei altro muori 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 tra i piedi dell'inferno 14 minuti per ottenere la prima IEX come cavolo faccio con apolloflame anche di questo tizio punterei alla IEX fateli sottile perfetto quanta vita hai tizio bello ti ho già affrontato però quanta vita hai quanta vita quanta vita hai quanta vita quanta vita io ho scritto ma no ma apolloflame non dovrebbe essere così male tanto sono finito un pottosco bene ultimo tutto a parte che mi sa che ho bisogno di un deck ok che non posso più attaccarlo cioè e non male che mi sono ricaricato in quel preciso istante e non male che mi sono ricaricato 800 di danno in parelli segni ok ah proprio neanche la oddio 2800 zemi non sono male no e muori non muore eeeh qualcuno non uccida ok ci ho pensato oh apolloflame IEX not bad not bad sto per morire ma not bad in realtà non mi ha toccato in sta run vediamo quanto fa eeeh va bene 220 e va bene 220 la mica così anche a origine però non scherzo ok ci ho fatto aiuto no 310 non ci credo no 310 dimmi che la special perchè se non ho special ok in 23 secondi e un tempo accettato Quanto fai? Quanto fai di special? 250 è un attacco inarrestabile 3 parentesi non mi ricordo se il fatto che fosse inarrestabile volesse dire che infligge danni anche allo scudo di Apollo non me lo ricordo proprio 3 parentesi adesso devo farmi un mazzo contro contro Apollo ok ragazzi bentornati avevo lasciato che finisse la videocamera intanto io ho creato un mazzo che si chiama Apollo è un mazzo che ho fatto io in poco tempo contro Apollo Flame come potete intuire sono per la maggior parte carta e acqua ne ho un po' elettro perchè quando in Zerker mi va a vantaggio comunque il fatto di avere elettro un Vulk andando per fare un po' di contraattacchi Stay Gelo Invisibili recupera i Pioggia Plik per fare la maggior parte dei contraattacchi Temp Neve da usare soprattutto in Zerker insieme ai tappeti blu una granata a ghiaccio che comunque ricopre il campo mega maggiore parte tipo acqua parte da Phantom e Earth Note perchè mi servono per bloccarlo bene sono ancora da Auriga devo arrivare da Apollo mi sono ricordato di una cosa ragazzi che questa qua non l'avevo aperto e qua c'è una giga fatti sotto perfetto quanta vita hai amico mio ti prego non dimmi più di 3000 non dire più di 3000 non dimmi più di 3000 3000 di pacca proprio quella è completamente inutile finchè non mi arriva ok dicendo danni proprio così non mi fanno schifo barriera guardate quanti danni fa questo infame lezzo mi abbiamo quasi dimezzato la vita perchè ho tutte le carte per fargli danno ma non ho lo sto muorestando malissimo ma non riesco a finirlo perchè i tempeneve che ho dentro ammazzo non hanno le combo no 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 orca misere lo sapete yeti non so se la chiude si ti prego ti prego ti prego Apollo Flames special in 27 secondi ma chi se ne frega francamente chi se ne frega 260 di mega si può migliorare si può migliorare non lo metto in dubbio ma eh adesso ho bisogno di ripristinare il mio mazzo originario perchè questo qua è bellissimo ne è bellissimo però mi sento più sicuro con il mio mazzo siamo a 40 mega vicini così vicini oh davvero ora che il nostro mondo è salvo cerchiamo di trovare tutti gli esterni ok non sapevo che lo dicesse devi farmi uscire però non sapevo che lo dicesse nell'universo secondo ragazzi ci mancano le ehm base ma sono abbastanza semplici a questo punto bisogna solo sopravvivere abbastanza con entrambi brava saliamoci ci sembra anche questo qua riesce a eliminarmi ok sarà un incontro impari perchè io dovrò farmi pestare tanto ok dovrei chiuderla con valanga spererei di chiuderla con valanga ok ok oh come frate grazie come faccio a tenerela vabbè io gli ho andato solo non va giù la parriera guardate no c'è serio, serio non va giù serissimo, sono serio non va giù 8 anni giusto, hai imparato no no come si fa, qualcuno me lo dica io sbaglio a farla prima perché se non passi più un formello non ci credo non so neanche di usare no ci pensano neanche ti prego dimmi io non ho così ditemi qua la base ditemi qua la jax devo farla ancora più schifo oh beh ci si può sempre dare l'ipic che ho fatto domani giusto qua no 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 non ti farò 800 malmio ok ho un invisibile quindi riesco un po' a prendere tempo no 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 mi saldasse su una cosa utile non ci faremo non è neanche tirato la palla, interessante poi può accadere quello che ne voglio però prima io si e fatti uccidere eh fatti uccidere no 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 come questi sono i miei tipo sesto sesto senso da ninja questo penso che sia il mio sesto senso da ninja che non pensavo di avere però tranquillo ok ho visto una bellissima cosa spostarsi fuori sinistra devo avere un recupero se non ho un recupero l'esercio non penso che ce la faccio alla prossima ok perchè a volte fai i per il caso che ti pare TE NE MUORI! non sei che quando riesco a trovare un sensor su Moods sto a posto qua ohoho ce la farà mai le nostre cose? nooo per sicurezza io lo metto ti prego c'ero buono cosa devo fare dimmelo in teoria se lo batto con il trova carte me la da il problema è che non riesco a fargli giù la barriera non ce la faccio è categoricamente impossibile tirargli giù la barriera qua trova carte vabbè che non riesco non riesco non ci credo perchè perchè cosa ti è venuto da fare spumare quelli oh guarda non mi frega niente basta che muori guarda io spreco tutte le carte che muori però basta che tu muovi come devo fare? muori muori non muore raga si te la ricordi questa? è come se è morto la prima volta e ci muore lei ancora e ancora e ancora non ci credo alleluia oh mio dio vi salvo un attimo ragazzi ragazzi in conclusione se tenete la vostra sanità mentale non citate pure anzi non citate pure è il contrario quello che voglio dire o aggiornatemi dati per l'oltre ah 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 finito ah 35 minuti ci faccio un caso 35 minuti ragazzi io con un'ora e nove ah ah vi saluto quindi se il video ci è toccato lasciate un commento se non ti piace iscrivetevi vi annuncio che io in questo periodo se lo vi assisi quindi apprezzate il mio sforzo oh mio dio sto morendo eh che altro devo dire? si basterà forse un pochino di tempo tra questo perciò bisogno devo raccogliere i soldi necessari ad acquistare le 2 miga 2 giga scusate poi finalmente finiremo una volta per tutto Megaman e lì potete contarci quello che volete che sclererò ma sclerare non avete idea di cosa comporti quindi bella ragazzi